Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Tech Intervista. Oggi con noi c'è Giorgio Sperafico. Ciao Giorgio. Ciao Marzia. E benvenuto nella nostra rubrica. Sei ritrovata grazie. Giorgio oggi ci parlerà di un volume che ha scritto e che è stato pubblicato appunto con noi che si chiama l'uomo delle parole incrociate che è una storia veramente molto interessante. Allora Giorgio, l'uomo delle parole incrociate racconta una storia che veramente pochi conoscono ed è quella di Giuseppe Eroldi e tu hai deciso di ricostruire questa storia tramite un'indagine molto accurata. Quindi raccontaci un po' chi era questo personaggio che è stato a lungo dimenticato. Sì, molto volentieri. Hai detto molto bene che questa storia la conoscono molto pochi probabilmente nessuno la conosce o meglio la conosceva prima che questo libro fosse scritto semplicemente perché di questa figura si è avuta notizia. Da tempo di tanto in tanto ricorre il suo nome però lo si ritrova scritto da qualche parte in tre, quattro, cinque righe pubblicò il gioco delle parole incrociate e niente di più. Questa cosa mi ha sempre molto incuriosito cioè chi ci fosse dietro queste cinque righe che appunto ha deciso di andare a scoprire e questo signore era un impiegato comunale del comune di Lecco. Lui in realtà era nato e abitava a Castello che adesso è un quartiere di Lecco ma al tempo era un comune a sé stante come molti altri rioni della città di oggi erano comuni a quel tempo. Stiamo parlando della seconda metà dell'Ottocento. Lui era figlio di un artigiano del ferro di Castello appunto che però aveva deviato rispetto alla strada apparentemente segnata del mestiere di famiglia era diventato un dipendente del comune. Il comune di Lecco che allora era nell'attuale piazza da 20 settembre che allora si chiamava Piazza del Mercato e stava nel fabbricato che esiste ancora proprio accanto alla Torre Viscontea che allora era adibita a prigione. Era una figura molto particolare, molto eclettica perché abbinava la sua condizione lavorativa diciamo di travé, per usare questa espressione, di impiegato quindi era impiegato all'anagrafe del comune, quindi sui libroni, registrava le nascite, le morti, il matrimonio, queste cose e si occupava anche della gestione dei messi comunali che dovevano portare provvedimenti, cose di vario genere. Però questo diciamo apparente grigiore di una condizione lavorativa abbinava una molteplicità di interessi in tutt'altra direzione, in un campo artistico, creativo. Era un amante della bellezza, era innamorato della musica, era anche abbastanza competente di musica, amava il teatro, era anche un filo drammatico e poi aveva questo amore sconfinato e incontenibile per questa arte dei giochi, i giochi costruiti con le parole, gli enigmi, si chiamava allora l'arte di Edipo con un riferimento all'episodio mitologico di Edipo e della sfinge che sulla strada per Tebe interrogava e quindi era definita l'arte di Edipo e lui era un appassionato di questi giochi, li amava, li creava, li risolveva, era un accanito lettore delle pubblicazioni del tempo ed era anche un grande appassionato di giornalismo che desiderava fare il giornalista, quindi come vedi aveva una molteplicità di interessi e per sua fortuna è riuscito ad applicare il suo tempo libero a molti di questi interessi, principalmente appunto all'enigmistica. lui pubblicò nel 1885 anche un giornale completamente dedicato ai giochi enigmistici che allora venivano chiamati enigmofili, i praticanti di questa arte minore ma pur sempre arte, lo pubblicò per quasi un anno e via via crebbe nella proposta dei giochi, crebbe come conoscenza del mondo dell'enigmistica del tempo con contatti, con corrispondenze con altri autori, finché arrivò un bel giorno a pubblicare anche questo gioco, fu il primo a pubblicare un gioco chiamato appunto Parole Incrociate, le pubblicò su una rivista di Milano che era il settimanale, per così dire, anche se allora non veniva chiamato così, del quotidiano più diffuso d'Italia che allora era il secolo e lì sopra pubblicò appunto questo primo gioco con definizioni orizzontali e verticali, lo pubblicò in modo anonimo senza firmarlo la prima volta, poi lo pubblicò con uno pseudonimo che era Inno Minato, il personaggio manzoniano ma lui lo usava tagliato in due, Inno e Minato e poi lo pubblicò ancora in forma anonima, lo pubblicò per un po' e poi scomparve, il gioco non ebbe successo, lui fu dimenticato, il suo destino è stato un po' questo, di essere una figura comparsa come un lampo e poi scomparsa, della quale nessuno si è mai più occupato per molto tempo. Nel libro ci sono diversi giochi comunque, diverse charade, io ricordo che quando tu ce l'hai portato, che l'ho letto la prima volta, mi sono un po' divertita e sono stata anche messa un po' in crisi da alcuni di questi giochi, perché erano anche un po' complicati. Tu nel tuo lavoro di ricerca ti sei anche divertito a fare questi giochi? È stato non divertente anche, molto divertente, molto appassionante, perché per raccontare questa storia sono dovuto risalire al tempo naturalmente, alle pubblicazioni del tempo, dovuto rintracciare gli spazi che sui giornali normali, che oggi chiameremmo generalisti e che allora erano prevalentemente dei settimanali, gli spazi che venivano riservati a questa attività di svago, qualcuno lo chiamava ricreazione, qualcuno in altri modi, e quindi rintracciando i giornali, rintracciando questi giochi, mi sono reso conto di quanto geniali fossero questi signori, perché le regole non erano così definite come sono oggi, qualcosa era a volte cervellotico, qualcosa straordinariamente geniale, con una lettera o due scritte su un foglio di carta, riuscivano a costruire delle frasi intere e pretendevano che ci fosse qualcuno in grado di capire quali ragionamenti c'erano attorno alle loro frasi, e c'era questo qualcuno, ed erano molto bravi, molto appassionati, e mandavano le loro soluzioni ai giornali che pubblicavano poi i loro nomi appunto nelle rubriche, indicando solutori, signora Ina, Marta, signora Nobildonna, Marzia Tonoletti. In questo modo c'erano anche concorsi a premi, era un mondo fantastico che stava prendendo il largo, ma che non riusciva a, come posso dire, ad arrivare alla gente proprio più comune. Erano giochi sempre un po' alti dal punto di vista intellettuale, presupponevano una certa cultura di base, una certa conoscenza dei classici, e uno degli obiettivi di Ayroldi è stato, come credo di essere riuscito a documentare, è stato di portare questo gioco, di portare la renghe mistica, di abbassarla, di renderla a portata di menti più normali. Forse lui è arrivato troppo presto, e questo lo ha sfavorito, e ha fatto sì che appunto fosse dimenticato, e che altri siano stati nel mondo considerati inventori di questo gioco. Tu hai passato tutta la tua vita tra le parole, perché è giornalista, scrittore, e quindi c'è questa passione proprio dentro di te. Però diciamo che nel libro c'è anche una parte di te, c'è una parte della tua famiglia, quindi mi piacerebbe che tu raccontassi un po' questa storia. È vero, anche se è vero in parte, nel senso che una parte della mia storia è dietro questo libro. Nel senso che io sono cresciuto nella casa di quello che per me era il più grande enigmista del mondo, che era il mio papà. La mia casa era piena di suoi trofei. Lui è stato il più grande, posso dirlo, perché è una questione storica, quindi non mi imbarazza, anzi sono molto orgoglioso di poterlo dire. Lui è stato il più grande campione dell'emunistica italiana e probabilmente è una delle figure nella sua stagione più brillanti dal punto di vista della capacità di risolvere e di proporre giochi. Quindi io ho sempre visto il mio papà, che si chiamava Luigi, e che come pseudonimo aveva SL. L'ho sempre visto la domenica mattina, sbrigate le faccende, mettersi al tavolo con i suoi libroni, con i suoi fogli di carta, e l'ho sempre visto comporre, cruciverba, rebus, l'ho visto disegnare. Aveva una mano formidabile come disegnatore ed era pieno di quali... Era un po' un Airoldi, perché anche lui aveva avuto un'attività lavorativa, il piegatizia normale, e poi aveva mondi nei quali si spostava e impendo di bellezza la sua vita. Guarda caso anche lui la musica, il teatro, l'emunistica. Quindi c'è stata anche questa affascinazione per me di andare a cercare una persona che tutto sommato, e l'ho scoperto poi strada facendo, e via via che lo scoprivo, mi appassionavo al fatto che somigliasse così tanto a mio padre. Purtroppo papà poi è mancato molto presto, però ho avuto il tempo di insegnarmi a giocare con le parole. E tutto questo è dentro la affascinazione che io ho per questo mondo, anche se non sono, purtroppo mi spiace, ho deluso il mio papà, non sono diventato un enigmista, anche se il gioco delle parole mi è molto familiare, lo amo molto. Però ecco, dietro a questo libro c'è anche questa mia storia, il libro è dedicato a lui. Certo. Nel libro però tu parli anche di tanti altri personaggi che hanno reso celebre l'Eco, comunque che hanno dato prestigio alla nostra città e che hanno avuto un ruolo fondamentale nella storia. Quindi se ti va di citarne qualcuno? Sì, sicuramente, molto volentieri. La persona più importante all'interno di questo libro, più importante perché io credo, spero, che il suo spirito si colga in tutte le pagine di questo libro, perché il suo spirito ne percorre tantissime. è Antonio Ghislanzoni, una figura purtroppo un po' dimenticata all'Eco. Ha un piccolo monumento lì al lungolago, si parla di lui molto poco, anche se c'è una via dedicata a lui. È stato un poeta, è stato un giornalista, è stato un librettista d'opera soprattutto. L'Aida di Verdi, per citare il caso che viene citato quando si parla di Ghislanzoni, è scritta su un suo libretto. Ma per dirti, a l'Eco abbiamo avuto situazioni concertistiche nelle quali si sono proposte situazioni dell'Aida, non è mai stato fatto il suo nome. Questo per dirti come purtroppo abbiamo delle situazioni da recuperare dal punto di vista della memoria. Quindi Ghislanzoni, che è stato anche l'animatore di un cenacolo culturale straordinario che l'Eco ha avuto nella seconda metà dell'Ottocento, quello degli scapigliati a Maggianico. Quindi una figura davvero che andrebbe recuperata, rivalutata, riscoperta. Come lui, una figura che ha un posto di rilievo nel libro, è Mario Cermenati, un geologo, ma anche un politico. Abbiamo una piazza dedicata a lui, con un monumento di marmo. È stato proprio nel 1890, l'anno nel quale vennero pubblicate le prime parole incrociate, è diventato presidente del Cagliari. L'Eco, giovanissimo, ed è stato presidente fino alla morte, pensa, per 35 anni. Quindi ha accompagnato tutta la stagione della crescita del alpinismo lecchese. Ma poi anche altre figure che non erano lecchesi doc, ma che a L'Eco hanno avuto una storia importante. Penso a Conchielli, per esempio, che il compositore è Milcare Conchielli, che ha abitato per lunghe stagioni, a primavera, dell'estate, a Lecco, a Maggianico, proprio perché a Maggianico c'era questa presenza di artisti, di musicisti, c'è una sua villa. Ma anche Carlos Gomez, un altro compositore, la sua villa è stata ristrutturata, è sede della scuola musicale lecchese. C'era un mondo straordinariamente vivace, anche dal punto di vista culturale, che conviveva con un tessuto sociale ed economico molto proiettato sul lavoro. Apparentemente queste due cose non erano molto conciliabili. Invece convivevano. Il teatro era una istituzione attivissima, seguitissima, con prime di opere liriche, con spettacoli teatrali, con compagnie che venivano e stavano per settimane. Una stagione molto bella della nostra storia. purtroppo un po' trascurata e abbandonata. Certo. L'ultima cosa che ti voglio chiedere è questa. Sul retro del volume c'è una frase che è tratta dal tuo libro, che poi Giuseppe Roldi spiegò verticali come le montagne, orizzontali come il lago. Io quando l'ho letta la prima volta mi è venuta la pelle d'oca, perché io già adoro la nostra città, quindi quando l'ho letta ho letto anche un po' del tuo amore verso l'ecco. Quindi questo libro non racconta solo la storia di questa invenzione, comunque la riscoperta di questa invenzione, ma è anche una vera e propria dimostrazione di amore verso la tua nostra città. Cioè noi la vediamo così e ci piace vederla così. Mi fa piacere che tu abbia pensato questo. Sono felice perché è proprio così. Io sono innamorato della nostra città, sono innamorato della sua storia presente, sono innamorato del suo passato e sono tra quelli convinti che la memoria debba avere un posto importante nella storia di ciascuno di noi. Quella frase è una frase d'invenzione, perché il libro è un romanzo basato su una documentazione storica solidissima, ma ha parti di raccordo tra i fatti storici che sono di fiction. C'erano dei puntini, li ho collegati, come appunto nel gioco che si trova. E questa frase racconta un lecchese di allora, ma anche un lecchese di adesso, che ama appunto la montagna, che ama il suo lago, che ama la sua terra. La città e l'amore che ho per questa città e per quello che è stata è il contesto nel quale questa storia si dipana e non potevo che raccontare anche questo contesto mentre seguivo le tracce del mio piccolo eroe Giuseppe Iroldi. Va bene, ringraziamo tantissimo Giorgio Sperafico per il deputato e grazie a tutti. Buona giornata, grazie. Grazie a tutti.